Si è buttata giù praticamente a Gesù un sumogeno, è una dimostrazione, ha una bandiera lunga, della pace, della pace, si è della pace, si è della pace, è rinunciata giù, è rinunciata giù, è rinunciata, non sa se si può buttare giù se ci vuole manifestare qualcosa, quindi, quindi, come io sto arrivando, la pace è la pace, di tutti i punti come sento, non so, anche, se si è���ata, non so, comunque, non si è più stare, ma lumina. Rapparare i pedaci, volare piacciono, sicuramente, non so, mi parei spiegelo, è più spiegelo, le ultime spiegelo, è più spiegelo, è più spiegelo, è più spiegelo. È anche la pace, la pace, la pace, non so, fa, è più spiegelo, è più spiegelo, Grazie a tutti.